Ciao, oggi una breve video recensione su questa crema viso dell'azienda Apexil che promette di creare un effetto antilucido e quindi un look asciutto. Una crema particolarmente indicata per chi ha la pelle oleosa o per chi soffre di iperidrosi, quindi un'eccessiva sudorazione. La crema è di 50 ml, questo è il contenuto e internamente c'è un foglio illustrativo che vi spiega come utilizzarla. In realtà l'applicazione è molto semplice e consiste nel picchiettare la crema fino a completo assorbimento. Vi mostro il formato della crema che è fatta così e quindi ora andiamo ad aprire. Vediamo prima il profumo. Il profumo mi dà qualcosa di aspro, leggermente dolce aspro. Comunque questa è la crema in questa colorazione bianca. Ok, sta uscendo tutta. Andiamo ad applicare picchiettando. Allora, la metto un po' su tutto il viso. E' freschissima. Molto fresca, sì. Ok. Allora, già sento che si assorbe molto rapidamente. Si, un assorbimento veramente fast. Ok, bene, sì. L'effetto è un po' quello del talco, effetto talco. È molto fresca, ripeto. L'odore non dispiace. Non è molto forte. Oh, bene. È proprio effetto borotalco, sì. Allora, sì, l'effetto è piacevole. Si assorbe rapidamente. Il profumo non dispiace. Diciamo che... Sì, non è male. Allora, di questa crema voglio leggere insieme a voi un po' gli ingredienti che sono scritti qua. Diciamo che non è un prodotto biologico. Ha un inci misto. Quindi abbiamo acqua, di mio ticone. Un altro ticone, insomma, che non conosco. Poi c'è l'alcol denaturato. Abbiamo, allora, un PPG, il citronellol. Insomma, un misto appunto. Non ci sono ingredienti biologici. E questo comunque è tutto l'inci. Poi vi posterò nella prossima recensione, quando avrò utilizzato più volte questa crema, comunque tutti gli ingredienti. Allora, detto l'effetto non è male. Sicuramente sarà un prodotto che io riutilizzerò e che vi consiglio. Vi consiglio se non siete molto attaccati all'inci. Se diciamo accettate anche ingredienti da bollino giallo e rosso. Perché qui comunque, ripeto, sono veramente misti. Però come prima applicazione è andata bene. Quindi diciamo che l'effetto è buono. Si percepisce veramente subito. Poi comunque la devo provare ancora di più per darvi delle idee un po' più precise. Però se per caso vi interessa vi lascio il link di questa crema ma nell'info box. Intanto vi saluto!